In occasione della ricorrenza di Sant'Antonio Abate tornano nel territorio aretino gli appuntamenti per le tradizionali benedizioni degli animali. A Castiglion Fiorentino sarà intorno alle 11.40 dopo la Santa Messa nella chiesa della Collegiata, una giornata che sarà preceduta anche da una passeggiata trekking. A Monte San Zavino invece a promuovere la benedizione degli animali sarà la proloco, l'arcipretura e la confraternita della misericordia in collaborazione con l'amministrazione comunale. L'evento è un modo anche per riscoprire le nostre tradizioni, non solo il valore del legame con la storia agricola e sociale del nostro territorio, ha detto l'assessore alle attività produttive di Monte San Zavino, ma anche in considerazione dell'importanza crescente che gli animali, in particolar modo quelli domestici, hanno nella vita delle persone e delle famiglie. Anche a Monte San Zavino la benedizione sarà preceduta alle ore 11 dalla Santa Messa celebrata dall'arciprete di Monte San Zavino.